Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema dei file DLL mancanti nelle cartelle Sysstem32 oppure nella cartella del Sysstem64 per i sistemi operativi a 64 bit quindi in questo caso se avete problemi con i file DLL mancanti bisogna scaricarli e inserirli nelle proprie cartelle del sistema operativo quindi in questo caso se vai in descrizione c'è un link che ti porterà sulla pagina dei DLLfiles.com e qua cerchi il tuo file DLL mancante io ovviamente vado a scaricare il file DLLbase.dll vado a scaricare il file architettura 64 bit per i sistemi operativi a 64 bit oppure architettura 32 bit quindi se io adesso vado su il tasto in logo di Windows sistema ed eccolo qua tipo di sistema sistema operativo a 64 bit basta processore basato su per 64 e io vado a scaricare questo qua quindi faccio scarica ok scarico così il file DLL il pacchetto va estratto con winrar quindi tasto destro sopra questo è un file zip quindi va estratto con winrar extract to base ed eccolo qua questa è la cartella base ci clicco sopra ed ecco il file DLL che me lo segna come documento invece no non è un documento questo qua è il file DLL prendo questo e lo metto qua ok eccolo qua una volta fatto andiamo sul nostro sistema operativo disco locale se c'è questo logo che sarebbe il tuo sistema operativo è stato su questo disco ci clicco sopra e vado su Windows scendo fino a giù fino a trovare la cartella o size stem 32 o size wire 64 questo qua questo è per i sistemi operativi 64 bit e questo per i 32 io vi consiglio di mettere questo file DLL in queste due cartelle tutte e due quindi se avete problemi con il file DLL mancanti prendi questo file ovviamente questo è mio file DLL che devo aggiungere al mio sistema operativo lo metto qua prendo un altro file DLL base e lo metto qua continua ed ecco qua ovviamente se vi chiedete l'autorizzazione in alto a destra c'è un video su come essere amministratore avere il controllo completo di tutto il pc quindi ecco come scaricare e aggiungere un file DLL mancante nel sistema operativo quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao